Vorrei dire che anche se la signora Meloni ha condannato l'attacco israeliano all'Unifel e ha preso una certa distanza da Netanyahu, diciamo, si è comunque assicurata di ribadire il suo sostegno al diritto di Israele di vivere in pace e sicurezza. Ma è il diritto del popolo di Gaza di vivere in pace? Il diritto del popolo palestinese di vivere in pace? Il diritto del popolo libanese di vivere in pace? Io avrei voluto che la signora Meloni avesse condannato l'uccisione di innocenti a Gaza sin dall'inizio della guerra, invece di aspettare otto mesi, credo, e la pressione delle proteste popolari.